Un'arte semplice, raffinata e che va dritto al cuore, è quella della pittrice Melina Duoti, protagonista di Quadretti di Natale, la mostra inaugurata in Via Tuggini 44 a Foggia. Tele che raccontano castelli fiabeschi, icone magiche, paesaggi che portano il cuore e lo sguardo in luoghi lontani, fra i soggetti delle opere dell'artista lucana che ha a lungo vissuto e lavorato a Foggia. Un'arte schietta e fuori dai canoni, ma dotata di grande suggestione e forza descrittiva, grazie ai colori pieni e alla delicatezza e precisione del tratto tipico del naif. Così Gloria Fazia, già direttrice del museo, durante la cerimonia di inaugurazione aperta da un video dedicato all'artista. I quadri di Melina Duoti sono un'esaltazione del bello che trasforma e migliora la realtà, una vera condivisione di serenità, secondo Luigi Miranda, presidente dell'Associazione Qualità della Vita e del Consiglio Comunale di Foggia, intervenuto all'inaugurazione in veste di esperto appassionato d'arte. Artista che ha ricevuto titoli accademici in Italia e all'estero, Melina Duoti vede numerose sue opere custodite in collezioni private, gallerie, musei. Duoti è anche l'unica pugliese recensita da Vittorio Sgarbi nel progetto Portofranco, dedicato a 101 maestri italiani. La mostra, Quadretti di Natale, occasione per scegliere un regalo natalizio di classe, rimarrà aperta in via Tuggini 44 fino al 30 dicembre, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 alle 20.